C'è una ragione biologica per cui le donne sopravvivono agli uomini. Da tempo è stato riconosciuto che, in media, le donne tendono a vivere più a lungo degli uomini, ma i ricercatori ora dicono di aver trovato almeno una delle ragioni biologiche per questa differenza, il sistema immunitario femminile non si degrada tanto rapidamente quanto il maschio sistema immunitario. Un sistema immunitario indebolito può aprire la porta a una serie di problemi potenzialmente fatali, tra cui il cancro e altre malattie, perché non ci sono abbastanza globuli bianchi per combattere l'infezione. Nello studio giapponese, incentrato su 356 uomini e donne di età compresa tra 20 e 90, i ricercatori hanno scoperto che mentre tutti perdono globuli bianchi mentre invecchiano, le donne potrebbero avere un vantaggio a causa dei loro ormoni sessuali, che sembrano amplificare i meccanismi di difesa del sistema immunitario. Vivi a lungo ed in prosperità. Secondo i dati della CIA del 2017, Monaco vanta l'aspettativa di vita media più lunga, a 89,4 anni, il CIA da il più basso, a 50,6 anni. L'aspettativa di vita negli Stati Uniti è di 80 anni. Secondo la Johns Hopkins Medicine, i quattro modi migliori per vivere più a lungo e in buona salute sono, non fumare, mantenere un buon peso, fare attività fisica ogni giorno e mangiare principalmente frutta e verdura non era per ferite o diventare preda, la medusa immortale, Turritopsis dornii, poteva essenzialmente vivere per sempre, è in grado di tornare a uno stadio precedente della vita a volontà.